Neri Marco Re e Serena Rossi cambiano lavoro Neri Marco Re e Serena Rossi cambiano lavoro Una veste inedita Celebration È fissato per stasera il primo attesissimo appuntamento di Celebration, il nuovo show del sabato di Rai 1, condotto dall'inedita coppia formata dagli attori Serena Rossi e Neri Marco Re, che avranno modo di mostrarsi al pubblico come mai, o quasi, hanno fatto prima dora. . . . . . . . . Una novità, dunque, per entrambi, che lasciano momentaneamente il loro set per salire sul palcoscenico di uno show tutto musicale. . 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